Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Sulla strada regionale 439 alla Rosa di Terricciola in provincia di Pisa si è rivaltata un'autocisterna di GPL. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. In FIPILI due chilometri di coda per incidente tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Code per curiosi tra Firenze Scandici e la Strassigna in direzione Livorno. Si segnalano anche code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A11 code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Per il traffico urbano di Firenze e per i cantieri della tramvia domani sera sarà allestito il cantiere per la realizzazione della sede tramviaria in Viale Fratelli Rosselli al fine di collegare i binari appena posati in Via Lamanni con quelli di Via Guido Monaco. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!